oggi video un po diverso dal solito vi porto a vedere un vecchio franto io abbandonato buona visione possiamo vedere qua le macine ancora tenuto in ottimo stato qua possiamo vedere dei vecchi attrezzi di falegnameria una vecchia macchina della tupi che abbiamo non lo so penso sia un vecchio banco da lavoro qua si esce subito a vedere qua vecchi pezzi di legno detto che scende a pezzi qua si va nel giardino sotto però l'avimento non è molto sicuro possiamo vedere lì è crollato un pezzo di scala è assurdo pensare come un'epoca tutto questo veniva usato per lavoro e adesso è così anche qua si può vedere un pezzo di tetto che non usa più legname vedete qua vedete qua quello che sono riuscito a sapere questo mulino è stato in funzione fino agli anni 50 e ho trovato una scritta con scritto 1890 quindi ha avuto i suoi parecchi anni di lavoro qui è la stanza che vi faccio vedere sopra qui si stanno qua possiamo vedere delle vecchi botti è davvero impressionante vedere una cosa del genere qui qua il tra legno questi sono per coprire le damigiane questi qua per per la frangitura dell'olio no raga incredibile un topo mummificato chissà quanti anni è che è lì dentro lasciamolo qua in pace è sempre stato lì va bene che è che è che è avete visto che figata poi a me vabbè hanno sempre affascinato queste cose perché pensare come poteva essere anni fa e come adesso si vede si vede proprio come lavoravano una volta penso che sia davvero spettacolare comunque niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto saluto di qua alla parte dell'ingresso secondario del mulino ci vediamo alla prossima ciao vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere grazie